Guarda, innanzitutto mi è stato comunicato ieri, ma insomma io ho 36 anni quasi, non sono scemo, sono uno che nel mondo del calcio ci ha vissuto, avevo capito, se nessuno ti chiama per un anno, per dieci mesi, neanche per ipotizzare un eventuale contratto, la direzione è quella, e come diceva lui, io ho sempre parlato poco, ho sempre parlato poco anche in quest'anno, un po' perché non mi piace, un po' perché non c'era niente da dire, e un po' perché non volevo creare, insomma, rumore che potesse distrarre la squadra, i tifosi e tutti quanti. Riguardo al futuro, io ringrazio Guido per, scusa, ringrazio il ministro delegato per l'offerta e per come mi ha trattato in questi mesi in cui lui è venuto al comando, vorrei ringraziare anche Ricky Massara, la sensazione che ci fosse grande affetto e grande stima reciproca tra me e loro due era forte, la sensazione che magari si sarebbe potuto andare avanti anche per un anno, due anni da calciatore, idem, però queste sono decisioni che si prendono societariamente, globalmente, la società come sappiamo è divisa in più parti qui e quindi sono cose che vanno rispettate, vanno accettate e soprattutto io a Roma non posso fare diversamente, non posso uscire diversamente da questa maniera qui. Riguardo le squadre, no, qualche cosa ho sentito, non ho voluto cercare e chiedere niente a nessuno proprio perché ero convinto che questa squadra potesse arrivare in Champions, adesso sembra veramente molto difficile ma fino al pareggio di Genova ero convinto che questa squadra sarebbe arrivata in Champions quindi non volevo distrarre neanche me stesso da quella che era la nostra corsa. Stamattina mi sono arrivati 500 messaggi, dopo controllo vedo se c'è qualche offerta, ma non ho direzioni particolari, però quello che è è che io mi sento un calciatore, mi sono sentito calciatore tutto quest'anno anche se ho avuto dei problemi fisici e ho ancora voglia di giocare a pallone e credo che mi farei un torto grande e ingiusto se dovessi smettere così adesso.